Con Pietro Masi, consigliere del Movimento 5 Stelle, sua la proposta di adesione al bando regionale per la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali. Perché è ritenuto necessaria la candidatura a questo progetto? Allora, noi riteniamo e partiamo dai dati oggettivi. Il livello di traffico all'interno del nostro centro abitato, che è altissimo, ci sono livelli di PM10, quindi l'inquinamento veramente alti in alcune zone della città, la mancanza e quindi l'adozione necessaria di un piano urbano di mobilità sostenibile e l'implementazione di percorsi ciclopedonali chiedendo la possibilità ai cittadini di raggiungere dei punti nevralgici della città e non come quello quanto è successo negli anni passati con le precedenti amministrazioni, dove le piste ciclabili sono state dislocate in periferia senza alcuna funzione, senza alcun senso. Quali sono i percorsi finanziabili? I percorsi sono sia percorsi ciclourbani che itinerari cicloturistici, quindi si può pensare anche a percorsi extraurbani che collegano la città a punti come il Pulo o come l'Uomo di Altamura, quindi i percorsi sono tanti. Noi chiediamo all'amministrazione di intervenire, quindi di recepire, di intercettare questi finanziamenti. C'è tempo per manifestare interesse fino al 27 luglio, anche perché la città necessita di questa mobilità cosiddetta dolce. Idee come questa sono utili per educare i cittadini al rispetto dell'ambiente e anche a preferire i mezzi non inquinanti? Certo, purtroppo è sotto gli occhi di tutti anche il mancato utilizzo, il poco utilizzo dei mezzi pubblici all'interno della nostra città perché manca un'indicazione da parte dell'amministrazione e un senso civico che deve essere indirizzato, quindi dato dall'amministrazione stessa. Noi crediamo fortemente nella mobilità sostenibile, crediamo che il futuro passi anche dall'utilizzo della bici, anche delle biciclette elettriche all'interno del centro città e dall'esclusione, quindi dall'espulsione dal centro, come avviene in altri centri europei, in altre città europee, dell'auto e quindi degli autobus, dei mezzi pesanti all'esterno del centro urbano. Consigliere, grazie al Movimento 5 Stelle ad Altamura verrà raddoppiata la spesa prevista per il verde e per le attrezzature. Ci saranno nuove aree attrezzate per i bambini con disabilità? Sì, già nello scorso bilancio previsionale avevamo presentato degli emendamenti che poi sono stati anche recepiti dalla maggioranza che andavano ad incrementare quel fondo per eliminare le cosiddette barriere architettoniche. Noi chiediamo all'amministrazione di adottare velocemente il PEBA, il cosiddetto piano per eliminazione delle barriere architettoniche che era già presente nell'anno scorso nel bilancio previsionale e non è stato ancora adottato e grazie a un emendamento del consigliere regionale Christian Casilli del Movimento 5 Stelle sono state destinate ulteriori somme, come quelle di 10.000 euro annuali, per l'implementazione e per la realizzazione di giostrine per bambini diversamente abili. Possiamo dire che una città più inclusiva è sicuramente una città che è più avanti? Certamente perché eliminare queste barriere significa quindi includere della possibilità a tutti di vivere la città da nord a sud e da est a ovest, quindi tutto il centro abitato.